io ci voglio chiare, hai un'ombrella di sicurezza? si ecco qua i nostri donno ti prepari sei l'ultimo gli ultimi saranno i primi sei il bar ogni quanti linee la cotta è niente non è una gara di 3 ma questo nuovo dove va? prima davanti poi di chi? ah iacca 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 adesso questo ci vado di solito durissimo meno male che dà il tempo tutto preso, voluto uno degli atleti punterà a vincere la gara comunque in centro e tu vieni in centro e vedi tutto sta rilassando il telefono tutto tutto ha il peso di 96 libre com'è? eh treno figlia da dentro c'è ricambo va bene questo mi dà per terra e il porto di serena il porto di serena non sono mai formato va bene spagno ahah vediamo dopo ah io il cambio la bicicletta ce l'ho posizionata molto vicino all'arri però il numero è 447 quindi è dove ci sono i numeri 400 ho coperto ho coperto ti saluto che devo prepararmi ciao dai dai non fatemi andare in ansia al gelo figlia non mi molla più mi molla più gelo sei l'ultimo non hai ancora preparato niente un po' di tutto ma ragazzi si è rotta la cuffia ah sono l'unico che non ha preso su il camion per eventualmente cambiare se buco fisiotto oh no non si muove c'è ancora l'hascot ragazzi ma devo partire alle 11 non c'è non c'è no è roba vecchia se mi ricordate di un bambino e farà di farvi intervogirli film lo vedevo prima io ma Mahini le tolgo si però vedi tutto regolare vediamo se lo regolare dopo la faccio analizzare e dici che è regolare ma c'è ma giusto questo mi sembra giusto allora Mahini prende un rami plus e plus plus pensi che una volta mangiare solo del salame esatto se lo voglio in mente hai visto che c'è e va qui e va qui e va qui tolgo c'è ancora le scarpe lucide di vernice sono quelle che usa per gare ah no come il pelvaro le lucide da giocare per cazzo io c'è uno furone figascio menelare c'è anche consiglia cipolline e come corrono e come corrono questi eh questi qua vanno eh occhi mi sto cagando a dorso figa che il gelo deve cagare figa che lo sbaglieremo figa che tutto ci prego i limoni dopo e ho sbagliato è il primo errore di base e dopo le preparo là non si può preparare niente la comanda Goeber volevo capire la storia dell'elastico sul un uomo e la sua postazione faccio la faccia di quello che mi sa poi butto l'occhio se questo qua praticamente si scaccola tutto il tempo mi scaccolo anch'io faccio le stesse cose un uomo e la sua postazione hai visto tonno perché c'ha le chiavi con il bastardo lì io le metto giù dici che è la cava in fondo fatti dare le chiavi io la metto qua la mia roba c'è uno che ti ha battuto ha cagato nell'aiuola cioè non qui io lascio la mia roba di dietro anzi no il problema è infilare la muta se ci muovete la borsa non ce l'ho qua dentro i soldi ha detto di lasciarli lì ma avanti qua figuriamo bene sai dove è il tonno Rick? è là quello giallo fatti dare le chiavi nel furgone va per cortesia e dov'è il giallo? dov'è? dov'è il giallo? ovvio che vada sul sentiero che cosa? a piedi sì sì esatto ma è cosa piuttosto nota e poi volevo anche segnalare che avremo la chiusura in zona canto abbiamo un grande abbraccio ciao scarpe arrivederci a presto quando metti le scarpe dopo ma che numero? ma che tattoo? che ti diamo lì che ti diamo lì prestizione? prestizione? sì ma non partiamo più per primi e beh tutti i migliori per primi eh ma non l'ho mai visto una rata leggenda ma dopo fai il filmino che lo monti che dà eh sì e dopo lo dà finito ci metti sulle musiche dove lo metti? in esposizione su youtube da stasera già su youtube ah sì 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 faccio compagnia adesso quando metto io mi spino io devo di pia eh l'acqua fresa sei magnum? vai 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 ti faccio la foto ti metto su facebook subito eh hai ho un altro achei un altro perché ho là ho no ok ok la Sì, ma abbiamo freddo! No, fattori! Sì, ma inizia! Com'è la ricca? È un cao. Non è bello, ma io ho un mare! A moto per me basta sentire. Mi conservo per la gara. Ma qua è dove si sale, qua non si sale. Ma Andre, si arriva qua? Ricca, ricca, ricca. Si arriva qua. Arrivate qua. GAMBA GELO! GAMBA GELO! GAMBA GELO! VAMOS! GAMBA GELO! GAMBA GELO! GAMBA GELO! GAMBA GELO! GAMBA GELO! E' qua! E' qua! Praticamente sono scappato.